Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati a destra. Quanto sono garantiti i diritti umani oggi nel nostro pianeta? Soprattutto chi vigila affinché questi che sono principi fondamentali vengano sempre rispettati in ogni dove. E siamo sicuri che chi dovrebbe anche vigilare lo fa nel migliore dei modi, magari anche in modo imparziale. Sembrano temi molto alti, molto elevati, ma in realtà, lo capirete tra poco, noi oggi vogliamo interrogarci su un aspetto che attiene alla libertà di ognuno di noi, la libertà di pensiero, di esercitare il proprio credo politico, anche di manifestare le proprie idee, oltre che di poter vivere in un contesto di pace. Tra poco vi presento l'ospite di questa puntata di Extra. Prima, come sempre, c'è la copertina a cura di Silvia Corsi, che ci aiuta a focalizzare il tema di cui andremo a dibattere. Repressione delle libertà individuali, della libertà di pensiero e di parola. Sono azioni che l'opinione pubblica associa automaticamente a dittature sanguinarie o a regimi antidemocratici, ma che in realtà sono molto più frequenti di quanto si potrebbe pensare. Se Russia, Cina e Iran, per esempio, vengono spesso citate anche nel dibattito politico italiano come testimonianze di poca libertà, basta allargare un po' gli orizzonti e abbattere pregiudizi e stereotipi per accorgersi che la mappa degli abusi è molto più variegata, solo che spesso nessuno ci fa caso. Lo conferma Amnesty International, che anche quest'anno ha presentato il suo rapporto sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Il dossier dell'organizzazione non governativa rivela come i doppi standard e le risposte inadeguate alle violazioni dei diritti umani nel mondo abbiano alimentato impunità e instabilità. Se la comunità internazionale è pronta a stigmatizzare ogni provvedimento adottato per esempio a Mosca, a Pechino o a Teheran, molta meno attenzione sembra esserci su quanto accade in Arabia Saudita o in Egitto, oppure ancora in Giordania nella decennale crisi tra israeliani e palestinesi, o in Etiopia, in Myanmar e Yemen dove migliaia di persone vengono massacrate nel disinteresse generale. Ma preoccupare è anche la cosiddetta repressione del dissenso nel mondo. Se in Russia dissidenti e giornalisti sono finiti in tribunale per aver parlato di guerra in Ucraina, la stampa è nel mirino anche in Afghanistan, Etiopia, Myanmar, Bielorussia, Ucraina e in decine di altri stati del mondo dove sono in corso conflitti. Ma la situazione non è migliore nei luoghi di pace e qui forse ci sono i motivi di preoccupazione più grandi. In Australia, India, Indonesia e Regno Unito le autorità hanno introdotto nuove leggi per limitare le manifestazioni. E in questo clima ad andarci in mezzo sono anche le proteste per argomenti che in teoria dovrebbero stare a cuore a tutti. Pensate alle proteste ambientaliste per il clima. Se in Italia i giovani di ultima generazione sono finiti nel mirino di un provvedimento specifico del governo per contrastare le loro iniziative, anche Regno Unito e Germania hanno iniziato ad usare il pugno duro contro chi esprime il proprio dissenso sulle politiche energetiche. Un trend che proprio Amnesty International ha in più occasioni condannato. E noi siamo collegati con Riccardo Nuri che è il portavoce di Amnesty International in Italia. Buonasera e benvenuto a Estra. Grazie, buonasera. Ammetto la mia ignoranza pur essendo un cronista e quindi dovendo in teoria essere informato su quello che succede nel mondo. Ascordere il vostro dossier, uno quasi non si capacita di quante situazioni attenzionate ci siano, di luoghi non solo in guerra ma in luoghi dove anche nella quotidianità violenze e diritti umani sono all'ordine del giorno. Forse io partirei da questo. Abbiamo una visione un po' troppo italocentrica o italicocentra noi italiani? Forse sì, perché il tema degli esteri e dei diritti negli Stati fuori dall'Italia interessa poco, non c'è molta attenzione. Soprattutto si selezionano i temi su cui parlare. Quindi si parla di guerra oggi, giustamente. Però in realtà si dovrebbe usare il plurale. Si guarda per qualche mese a quello che accade in un paese. Pensiamo all'Iran e poi si dimentica. Così è successo per l'Afghanistan. Quindi poi è difficile risalire e ricostruire cosa sta accadendo nel mondo. Il numero dei paesi che sono descritti nell'ultimo rapporto anuale di Amnesty International arriva a 156. Questo vuol dire che in tre quarti degli Stati del mondo qualcosa nel 22 dal punto di vista dei diritti umani non è andato bene. Questo è un dato sul quale bisognerebbe riflettere e su cui probabilmente anche la comunità internazionale dovrebbe riflettere. Ma così in punta di diritto chi dovrebbe vigilare sul rispetto dei diritti umani nel mondo? È un compito che spetta a tanti. Istituzionalmente al Consiglio di Sicurezza che è incaricato di mantenere la pace e la sicurezza a livello globale, ma sappiamo bene che non si comporta in questo modo. Se non altro perché lasciamo stare l'Ucraina, ma quattro quinti degli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza sono intervenuti a più riprese nel conflitto della Siria che è scoppiato nel 2012 e ancora non è terminato. Dovrebbero pensarci gli organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani, ma spesso sono politicizzati. Dovrebbe pensarci il mondo dell'informazione che però segue i fatti del mondo come se fossero sulle tendenze di Twitter, quindi con molta velocità spostandosi da un tema all'altro. Cosa resta? Resta l'opinione pubblica, la società civile, le organizzazioni non governative per i diritti umani che dal basso cercano di portare l'attenzione, partendo da una bussola. che è che il silenzio giova ai regini autoritari e quindi occorre fare il massimo del rumore possibile. Per quale motivo ci sono crisi più attenzionate di altre? Lei prima diceva che le stesse Nazioni Unite in qualche modo sono politicizzate, ma quindi vuol dire che le situazioni di crisi, le guerre, i luoghi dove vengono vessati i cittadini non sono tutti uguali? Nel vostro servizio avete ricostruito perfettamente i luoghi che sono sottopratte, i luoghi dimenticati. L'Occidente si è mosso molto rapidamente rispetto all'aggressione russa dell'Ucraina, è bene affatto. però contemporaneamente c'era una guerra in Etiopia che è durata per quasi tutto il 22 ed era iniziata nel 20, che è stata spaventosa. Ci sono stati conflitti in giro per il mondo che sono stati ampiamente ignorati. E quindi sì, c'è un'attenzione che è selettiva. E' evidente che la guerra della Russia contro l'Ucraina ci investe più da vicino perché si svolge nel nostro continente. Però ci sono situazioni, avete citato, 60 anni e più di conflitto tra Israele e Palestina. Avete parlato dell'Afghanistan, di altro ancora. C'è uno Stato in Europa che vive i diritti umani in maniera spaventosa che è la Bielorussia. La Cina è riuscita costantemente a evadere ogni scrutinio, ogni chiamata ad assumersi responsabilità per una cosa che va avanti da 17. Cioè le politiche di sdrappicamento culturale, linguistico e religioso del governo di Pechino nei confronti delle minoranze musulmane, turcofone, attraverso campi di rieducazione in cui c'è passato almeno un milione di persone. Su tutto questo non è stato fatto nulla. Amnesty International, io lo ricordo a beneficio di chi ci stesse ascoltando e magari non lo ricordasse, un organismo non governativo internazionale, super partes, evidentemente non ha simpatie di sorta. Nel momento in cui ha redatto questa ricerca sulla violazione dei diritti umani nel mondo è evidente che sa perfettamente di andare forse a toccare anche temi che chiedono di urtare un po' la suscettibilità e i pregiudizi, le opinioni e il bagaglio culturale di ognuno di noi. Lei nel stigmatizzare l'operato della comunità internazionale, il rapporto per la verità, dice che è stato usato un doppio standard. Che cosa significa? Faccio un esempio, finalmente è stato dimostrato, purtroppo lo ha dimostrato la guerra, che un'altra accoglienza non è possibile. Abbiamo accolto indignità ai diritti ucraini e ucraini in fuga dall'invasione russa, lungo delle frontiere, stati baltici, Polonia, che erano diventati dei luoghi impenetrabili nel 20, nel 21, ancora nel 22, per persone che avevano analoghi e urgenti motivi di fuga dall'Afghanistan, dall'Iraq, dalla Siria, dall'Iran e lì in quelle frontiere sono morti, morti a centinaia perché non venivano fatti passare, dalla Bielorussia verso la Polonia e viceversa, dalla Bielorussia verso i paesi baltici rimandati indietro. Se vediamo quello che accade lungo le rotte più pericolose del mondo, quella centroamericana del Messico verso gli Stati Uniti, quella dei Balcani, la rotta marittima del Mediterraneo e noi non vediamo quell'accoglienza, vediamo persone che fogano, persone respinte, persone che sono intrappolate in luoghi di tortura e questo è il doppio standard. Doppio standard che nel caso, immagino, sui risvolti più strageopolitici finito, voi dite per agevolare, addirittura aiutare alcuni stati che magari avrebbero dovuto essere invece sanzionati per le loro condotte, in che senso? Prendiamo il tema delle fonti energetiche, giustamente si è detto che non finanziamo più la guerra della Russia contro l'Ucraina attraverso l'acquisto di drocracuri, quindi diversifichiamo le fonti. A chi siamo andati a chiederle? All'Algeria, all'Azerbaijan, all'Azambico, agli stati del Golfo, cioè Arabia Saudita, Qatar, eccetera, è l'Egitto. Quell'Egitto a cui noi dovremmo chiedere conto di fatti gravissimi accaduti in questi anni, che ci riguardano da vicino, perché riguardano l'omicidio di un ricercatore italiano, Giulio Reggeni, riguardano tre anni e più di una persecuzione giudiziaria nei confronti di uno studente di Bologna, Patrick Zaki. L'Egitto, al contrario, è diventato ancora più strategico perché ci serve il suo petrolio, ci serve il suo gas e i diritti umani sono ancora più ignorati. Questo è un esempio di politica che danneggiano la causa dei diritti. Tra poco dopo la pubblicità con Riccardo Nuri del direttivo di Amnes International, lui Daniele, il portavoce, racconteremo che cosa oggi minaccia i diritti umani nel mondo, ma poi parleremo anche di un diritto che potenzialmente riguarda tutti noi, il diritto al dissenso che, dice il report di Amnesty, mai come in questo periodo, sembra essere minacciato. Ne parliamo tra un attimo. Stiamo parlando di diritti umani in questa puntata di Estra, grazie al dossier che viene redatto puntualmente da Amnesty International. Abbiamo scoperto come nel nostro mappamondo siano tantissime le zone dove questi che sembrano dei principi quasi scontati, sembrano quasi superfluo dover ricordare quali sono i diritti ai quali ognuno di noi avrebbe il diritto, scusate il besticcio di parole, di aggrapparsi siano minacciate. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International. Intanto, mi scusi, mentre stavo producendo questo soliloquio, mi è venuto in effetti il dubbio che forse la parola diritto umano è un po' banale. Ci aiuta a capire quali sono i diritti umani che dovrebbero essere sacri e inviolabili? Quest'anno ricorrono 75 anni dalla proclamazione della dichiarazione universale dei diritti umani da parte delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948. Trenta articoli che sarebbe bene leggere e imparare perché descrivono un mondo libero dal bisogno, libero dalla paura, libero dalla povertà e parlano di diritti quali il diritto di espressione, la libertà di movimento, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, delle cure mediche, il diritto di esprimere le proprie opinioni attraverso un voto e tanti altri ancora. Sono diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali. Ripeto, bisognerebbe leggerla la dichiarazione universale del 1948 perché era finita la seconda guerra mondiale. Ci si riunì gli stati che c'erano allora per dire mai più. E quella dichiarazione universale è diventata la bussola dei movimenti per i diritti umani. Però è altrettanto vero che quel mai più è stato ripetuto in vano tante altre volte, lo stiamo ripetendo ora oggi. Quindi è evidente che i diritti, quei 30 meravigliosi articoli e i relativi diritti oggi per tre quarti, quattro quinti dell'umanità sono una chinera. Se noi pensiamo a diritti fondamentali come il diritto a vivere in un ambiente salubre e vediamo la minaccia costituita dal clima climatico, sappiamo che miliardi di persone non hanno accesso a un alloggio adeguato, a risorse idriche, servizi igienico-sanitari, al cibo. E allora ci rendiamo conto che in molte parti del mondo quel testo meraviglioso vale meno della carta su cui viene scritto e firmato. Adesso le farò una domanda che le sembrerà un po' ingenua e magari lo è davvero. Lei prima, nella prima parte di questa nostra chiacchierata, ci ha ricordato come probabilmente esistano stati più o meno cattivi, ma noi abbiamo una percezione un po' strabica magari di alcune situazioni che attenzioniamo o giudichiamo più cattive di altre. La sto molto banalizzando, ma così forse è più facile rendere il concetto a chi ci sta seguendo. E da quanto lei ci dice, anche stati che noi associamo per esempio a valori assoluti di democrazia, tipo gli Stati Uniti, in casi specifici violano i diritti umani. Ma allora, posto che non solo i dittatori lo fanno, che cos'è che mette a repentaglio talvolta questi principi inviolabili? Ma non c'è dubbio che gli Stati Uniti hanno una macchia nella loro storia, perché è ancora aperto il centro di detenzione di Guantanamo, in cui il primo detenuto è entrato nel 2002, ne sono usciti quasi 800 mai condannati, mai processati, evidentemente riconosciuti innocenti, ma una trentina stanno ancora dentro. Gli Stati Uniti praticano politiche di chiusura dal punto di vista dell'immigrazione, l'anno scorso ci sono state 18 esecuzioni capitali, gli Stati Uniti sono uno dei 20 stati al mondo in cui si usa ancora la pena di morte. La differenza è che lì c'è un'opinione pubblica, una stampa libera, che possono sfidare i governi, denunciare le violazioni dei diritti umani, farlo in maniera abbastanza tranquilla, aperta, e questa è la differenza fondamentale, cioè la capacità di porre rimedio, avere anche dei sistemi giudiziari che funzionano e possono chiamare autorità che vieno nei diritti umani a rendere conto di quello che fanno. Però l'esperienza dei 62 anni ormai di vita di Amnesty International ci ha dimostrato una cosa, non c'è un luogo che sia un santuario per i diritti umani. Prendiamo la Francia, in Francia sono anni che la polizia usa forza eccessiva nei confronti dei manifestanti, all'epoca erano i gireggialli, più recentemente sono state le persone che protestavano per la riforma delle pensioni, però anche quello è uno degli 85 stati da Francia, quindi non stiamo parlando solo dell'Iran, dell'Afghanistan, da Francia, nei quali Amnesty International nel 22 ha riscontrato un uso eccessivo, illegale, non necessario, della forza contro manifestanti che non stavano costituendo alcuna minaccia nei confronti delle forze di polizia. Senti, adesso veniamo alla situazione italiana. Lei ha fatto riferimento alle manifestazioni, recentemente Amnesty International ha espresso preoccupazione, mi corregga se esprimo male il concetto, nei confronti di un sempre più frequente uso della forza, per esempio anche nel Regno Unito e in Germania, nei confronti di chi manifesta per il clima. Voi tra l'altro avete espresso solidarietà anche ai giovani di ultima generazione che sappiamo qui in Italia sono particolarmente sotto i riflettori per le modalità di protesta un po' estrema che adottano, per richiamare l'attenzione delle istituzioni alla necessità di essere coerenti con gli impegni presi per la tutela del pianeta a livello internazionale. Ecco, è davvero così preoccupante il fatto che si metta sempre più il bavaglio al dissenso? È molto preoccupante e non inizia oggi. Anche nel 2022, negli anni precedenti, ci sono state manifestazioni pacifiche in cui è stata usata forza eccessiva da parte delle forze di polizia. Ricordo le manifestazioni Torino e Roma sul tema della scuola lavoro, un tema tragico perché ci sono stati dei morti. Riguardo a ultima generazione, Amnesty International sta notando in Italia come altrove una progressiva criminalizzazione del dissenso. Non c'è bisogno di approvare ogni singola iniziativa dal punto di vista del metodo per capire che qui c'è un accanimento nei confronti di persone che, per quanto discutibili possano essere le singole iniziative, le esprimono in modo non violento. E c'è da parte, chiamiamola così, la penultima generazione, cioè quella che sta al potere adesso, che non ha fatto nulla per contrastare la crisi climatica, che usa il pugno di ferro per cos'altro? Per cercare di distrarre l'attenzione dai suoi fallimenti. Così evidentemente non si va da nessuna parte. Lei prima faceva riferimento anche al ruolo che può avere in ogni paese la libertà di stampa, l'informazione, ok? Ecco, in Italia da questo punto di vista, lo dico da, a parte che siamo colleghi credo, ma lo dico da umile cronista, ecco talvolta sembra quasi che noi abdichiamo all'approccio critico, alla realtà per accodarci a questa o quell'altra idea. Amnesty International che si occupa anche di libertà di stampa, che idea ha del nostro paese da questo punto di vista? Sai, è vero, la libertà di stampa in Italia è più o meno garantita, ma io vorrei precisare che libertà di stampa non è soltanto scrivere ciò che si vuole, ma è anche farlo senza subire ripercussioni. L'Italia ha più di 20 giornalisti e giornalisti sotto scorta. c'è questa continua spada di Damocle nei confronti dei giornalisti, soprattutto giornalista e freelancer al sud, chiamata Querele Bavaglio. Dopodiché, è vero, c'è un abbastanza generale appiattimento non direi sul potere, ma sul governativo. Qualunque governo ci sia, la stampa è tradizionalmente filogovernativa in questo paese. E siccome non è che c'è una coalizione politica che i diritti umani li viola e un'altra che quando sta al governo li protegge e li promuove, di certi temi, penso al tema delle migrazioni, le cui politiche hanno responsabilità molto condivise nel corso degli ultimi otto anni almeno, e lì è sempre abbastanza difficile trovare nella stampa un alleato coraggioso che possa denunciare pratiche illegali, inumane, respingimenti, emergenze, naufragi e altro ancora. Quindi, in conclusione, sì, si dovrebbe approfittare di quella libertà di stampa che c'è per poter parlare un po' più di diritti e farlo in maniera più coraggiosa. L'ultima domanda a proposito di libertà di stampa. So che Amnesty International è tra le poche realtà che da anni si batte per restituire dignità e diritti anche a un personaggio che in qualche modo è stato dipinto come brutto e cattivo negli Stati Uniti. Parliamo di Julian Assange, giornalista, il creatore di Wikileaks, che ha diffuso informazioni sensibili e che da allora è oggetto delle attenzioni degli Stati Uniti, no? Che lo vorrebbero incarcerare. Perché è un personaggio così scomodo, ma anche che si fa fatica a ricordare nel momento in cui si fanno i dibatti sulla libertà di stampa, eccetera? Non dovrebbero essere valori universali che valgono per chiunque? Già, però è un giornalista che spesso non ottiene la solidarietà dai colleghi, la solidarietà che meriterebbe. Da dieci anni è al centro di una persecuzione giudiziaria. Perché? Perché è rivelato malefatte di grande interesse pubblico, compiute da governi dell'Occidente e Stati Uniti in primis in teatri di guerra. Per questo gli Stati Uniti lo vogliono estradare dal Regno Unito dove è detenuto. Lo aspetterebbero 175 anni di carcere. L'isolamento carcerario, un processo irregolare perché tutti l'hanno già dichiarato colpevole. Il paradosso sa qual è? è che in quella stagione di guerra iniziata dopo gli attacchi alle Torri di Gemelle del 2001, che poi hanno visto interventi militari in Afghanistan, poi in Iraq, sono stati commessi i crimini di guerra a profusione. Il paradosso è che nessuno di coloro che li hanno commessi è stato mai portato davanti a un giudice. Rischia di finire davanti a un giudice una sola persona, quello che li ha resi pubblici. E questo è, credo, il paradosso forse dei paradossi sui quali bisognerebbe anche interrogarsi nel momento in cui si parla proprio di democrazia, di libertà di pensiero e di opinione nel mondo. Io ringrazio Riccardo Nuri di Amnesty International, lo ringrazio intanto per averci, seppur in questi 20 minuti scarsi ha aiutato a allargare un po' gli orizzonti. Il mondo non finisce ai confini italiani, questo vale per noi italiani che molto spesso siamo troppo concentrati sul nostro ombelico e guardiamo anche oltre, dovremmo imparare a guardare oltre, soprattutto renderci conto che certo ci sono situazioni che per vari motivi possiamo sentire più vicine a noi, ma quando si è paladini dei diritti umani bisognerebbe esserlo in tutto il pianeta e non soltanto a intermittenza in alcune zone e in altre no. Grazie davvero per essere stato con noi e buon lavoro a tutti voi di Amnesty International ovviamente. Grazie e buonasera. Grazie, grazie a Riccardo Nuri davvero per questa testimonianza. Adesso abbiamo un po' di pubblicità e poi con il prossimo ospite siamo pronti per voltare pagina. Restate qui con noi di extra, tra poco. Bentornati, bentornati a destra. Adesso vogliamo occuparci di un tema che sta interessando il dibattito politico in questi ultimi giorni. Si parla molto dell'inverno demografico, del fatto che si fanno pochi figli nel nostro paese e puntualmente tra le cause che vengono evidenziate c'è il fatto di come oggi molto spesso le donne siano penalizzate nel momento in cui scelgono di mettere su famiglia e come anche questo possa essere una delle motivazioni che fa in qualche modo da deterrente alle nascite. Ma ci sono alcune categorie di lavoratrici che vivono costantemente una sorta di penalizzazione nel momento in cui indossano una divisa e sono coloro che servono lo Stato perché fanno parte delle forze dell'ordine. Può sembrare un paradosso che proprio lo Stato in qualche modo penalizzi le donne che scelgono di essere anche madre, ma di questo argomento vogliamo parlare con la nostra ospite che è collegata Gina Perotti, segretario nazionale dell'Unione Sindacale Italiana dei Carabinieri. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie del vostro invito. Allora ci aiuti a capire perché questa cosa quasi ha dell'incredibile, no? Siamo un paese che si chiede per quale motivo ancora la differenza di genere non sia sanabile e poi si scopre che proprio chi fa parte della pubblica amministrazione, chi indossa una divisa rischia di essere penalizzata. Perché? Perché? Perché per la tipologia di servizio, dei servizi che si fanno, per l'attività che si svolge, dove si svolge e quindi poi anche per diciamo anche per una questione di cultura è abbastanza difficile poi affrontare la vita familiare soprattutto se è monofamiliare o di coppia, spesso distante della famiglia perché poi in Italia abbiamo degli stereotipi di famiglia, donna, casa, comunque nipoti spesso cresciuti dai nonni. Quindi invece nella vita militare spessissimo si va fuori, si va fuori casa con grandissime distanze rispetto alle famiglie di origine e non è facile conciliare tutte queste cose nel poi mettere la famiglia e il lavoro insieme. Ecco ovviamente questo messaggio diventa ancora più importante a pochi giorni dalla festa della mamma che si sa si celebra l'otto di maggio o la domenica successiva ed è un tema sul quale poi c'è molta sintonia anche col dibattito politico nazionale perché si sta proprio in queste settimane No, distendendo sul fatto che chi sceglie di mettere su famiglia non possa essere penalizzata. Tra donne nelle forze dell'ordine sono una conquista abbastanza recente o sbaglio? Beh le donne hanno potuto accedere al mondo militare nel 2000 ma di strada ce n'è da fare ancora tantissima nel senso che attualmente ci aggiriamo intorno al 6-7% mi voglio tenere un po' alta ma in realtà siamo pochissime perché tra l'altro siamo entrati in un mondo prettamente maschile dove le infrastrutture erano state studiate per un mondo maschile e quindi hanno dovuto e si deve ancora in molti posti modificare le infrastrutture affinché si possano ospitare diciamo comunque rendere più agevole la presenza di uomini e donne negli stessi anche nelle stesse strutture. Sembra una sciocchezza ma purtroppo è così. Siamo ancora veramente poche speriamo di aumentare purtroppo si parla molto appunto di pari opportunità ma poi in realtà anche se ci sono tantissime leggi, tantissime normative, tantissime iniziative che si possono fare quando si stringe un po' le fila se vogliamo sapere veramente quanti siamo quante siamo, se ci sono dei problemi, che posti ricopriamo, in quale ufficio, in quale zone diventa tutto quanto molto più difficile. Si pensi che al comando generale in realtà, al comando generale dell'arma dei carabinieri, sembrerebbe che non ci siano neanche uffici pari opportunità o comitati unici di garanzia per quanto riguarda la parità di genere. Quindi il lavoro da fare è tantissimo, noi come associazioni sindacali, che siamo anche noi di una nuova entry nella realtà militare, stiamo cercando di organizzare in maniera molto forte appunto degli uffici, delle commissioni pari opportunità affinché alcuni dati possano essere più tangibili, più chiari, più trasparenti, perché in realtà è molto difficile anche avere dati, dati percentuali e purtroppo noi siamo in un mondo dove la matematica diciamo la fa da sovrana in tutti i ragazzi. Assolutamente, anche perché conoscere un fenomeno parte dai dati ed è fondamentale avere consapevolezza del tipo di problematiche per poi capire come intervenire. Segretario, ma ci aiuti a capire, è un problema normativo, è un problema strutturale o è un problema culturale se oggi le mamme in divisa rischiano di essere penalizzate? Penso che sia molto più un problema culturale e di stereotipi diciamo prettamente anche un po' italiani, ai quali bisogna far fronte secondo me pian piano sia con un cambio generazionale, forse anche con una cultura da questo punto di vista più ampia, ci saranno dei cambiamenti, anche se io mi auspico che ci possano essere proprio dei programmi anche in ambito formativo relativamente alla conoscenza della parità di genere affinché si possano abbattere questi stereotipi, questi aspetti culturali e sociali che noi abbiamo e che ci portiamo dietro come retaggio. Speriamo di scardinare un po' questi preconcetti, speriamo che ci possa essere la creazione di ambiti, non dico protetti perché altrimenti dopo non c'è più neanche l'uguaglianza, ma almeno di tutela e di poter parlare di eventuali problematiche. Per quanto riguarda la maternità volevo concludere, logicamente se si fa servizio in posti abbastanza sperduti come nell'arma dei Carabinieri dove le stazioni occupano anche spazi rurali, naturalmente è difficile mettere su famiglia, è difficile tutelare la prole, è difficile anche avere la possibilità di fare più di un figlio o più figli, insomma. Bisognerebbe avere una politica familiare che tuteli un po' di più in genere la famiglia, ma in maniera pratica proprio. Senta, c'è il tempo a capire perché, mi perdoni segretario, io provo a immaginare quali possono essere le difficoltà che una donna che lavora nell'arma dei Carabinieri, per esempio, si trova a scontrare. Tanto i turni, è evidente che i Carabinieri lavorano H24 sette giorni su sette e questo naturalmente per una madre è un po' più difficile da gestire rispetto a quello che può capitare per i colleghi maschi, ma penso anche al fatto che voi spesso siete impegnati in missione, magari avete anche dei tempi di preavviso, dei cambi turni che sono legati anche all'emergenza. In che modo si potrebbe, secondo lei, aiutare le donne carabiniere? Quali interventi potrebbero essere di sollievo? Innanzitutto provare a cambiare, io le dico semplicemente per gli orari di lavoro, io ho lavorato sempre come turnista e ho avuto grandi difficoltà, soprattutto all'inizio, per collocare mio figlio a un semplice asilo nido, che comunque apre non prima delle sette e mezza. Il turno lo inizio alle sette, quindi già lì è da comprendere come si può far conciliare questa cosa. Se il mio turno di lavoro inizia alle sette e l'asilo nido mi apre alle sette e mezza, è già un problema questo. All'inizio, per esempio, io sono stata molto fortunata, le apro questa piccola parentesi, ma non perché voglio farle tenerezza, io provengo dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato, dove mi è stato possibile all'inizio fare un orario flessibile e quindi attaccavo un pochino più tardi, portavo mio figlio e poi andavo a lavorare. Nell'arma dei carabinieri, per esempio, questa cosa ad oggi non è possibile. Non è possibile per chi lavora alla stazione o per chi lavora ai reparti operativi. Se si parla con i colleghi, logicamente la prima cosa che anche con i colleghi, quindi con dei pari, non le sto dicendo con richieste ai superiori, la prima cosa che si dice è impossibile e non si può fare. Io vorrei, mi piacerebbe pensare e immaginare che in futuro, prima di dire questo no così deciso, si possa pensare o immaginare in qualche modo di poter organizzare l'attività lavorativa in maniera diversa. So che è molto molto difficile e sono i primi a essere ostativi in questo senso, sono anche i medesimi colleghi con i quali giornalmente si lavora. Però mi piacerebbe pensare che questa cosa possa diventare una realtà. Almeno in alcune situazioni si possa pensare che possa diventare così. L'ostacolo principale è cambiare, è immaginare un cambiamento. Certo, anche perché forse i nostri ascoltatori non lo sanno, anche l'esperienza sindacale è tutto sommato recente, no? Perché le forze dell'ordine, i carabinieri da poco per esempio hanno un loro sindacato, hanno la possibilità di averli sindacati, giusto? Abbiamo delle associazioni sindacali, non si chiamano sindacato e ancora ad oggi non hanno momentaneamente i decreti attuativi, quindi è una cosa ancora che è emersa adesso, è proprio sul nascere e anche qui si sta facendo insomma un po' di forza per permettere anche a queste associazioni sindacali di lavorare in maniera tranquilla e diciamo equiparata a quello che è il mondo sindacale del mondo civile. Mi auguro che questa cosa possa essere oggettivamente possibile nel più breve tempo possibile. Anche perché credo sia quasi scontato dirlo, ma insomma chi lavora per lo Stato forse dovrebbe essere garantito altrettanto di un lavoratore del settore privato, no? Altrimenti è una discriminazione credo che sia inaccettabile perché il datore di lavoro è lo Stato che dovrebbe garantire per primo certi diritti. In realtà è proprio qui la differenza, siamo dipendenti pubblici in realtà ma nel contempo siamo militari, quindi usciamo un po' da comparto della dipendenza diciamo pubblica e infatti per esempio da noi non è presente il comitato unico di garanzia, è presente al Ministero della Difesa ma per quanto riguarda il mondo civile e se si fanno anche dei corsi inerenti appunto alla parità di genere sono fatti sempre in concordanza con il mondo civile. Cioè in realtà non siamo completamente equiparati in queste cose con il mondo civile. Il fatto di essere in Italia è come se ci estremiassi alla vita civile e pubblica. Allora noi. Questa è la più grande diciamo sofferenza tra virgolette è per questo che tra l'altro i sindacati ad oggi non hanno scato il mondo domenica. Allora io la devo ringraziare intanto per il tempo che ci hai dedicato questa sera dobbiamo salutarci perché adesso inizia un altro programma qui su Radio Roma Television però era importante secondo me parlare di un qualcosa che appartiene alla vita di tutti, di tutte, la possibilità della maternità e la condizione un po' particolare, diciamo la verità, che si trovano a dover vivere le donne che scelgono di abbracciare una carriera militare come le donne che per esempio servono l'arma dei carabinieri e il fatto di sapere che ancora da questo punto di vista ci siano passi avanti da fare è un qualcosa che forse sfugge all'opinione pubblica ma ci sembrava giusto aprire una piccola parentesi in questa puntata di Estra. Grazie intanto per essere stata con noi Gina, però ti lo ricordo è il segretario nazionale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri. Ringrazio tantissimo per questo invito, per avermi dato la possibilità di avere questo che è non soltanto mio e spero che si possano fare veramente tanti passi avanti. Grazie. Ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo tutti. Buon lavoro naturalmente a tutte le donne dell'arma dei carabinieri e in generale che operano nell'ambito delle forze dell'ordine del nostro paese. Siamo arrivati ai saluti finali, grazie anche a voi naturalmente per averci seguito. Torniamo domani se volete alla solita ora. Buon proseguimento. Extra. Tutti i colori dell'attualità con Claudio Micalizio.